E' una grande conduttrice, produttrice e autrice di tanti programmi televisivi di enorme successo. C'è un programma che ti piace moltissimo. Non sai come dirlo. Non so come dirlo. Me lo invidi però. Non mi attira più. Il programma lì è quello che non ho mai condotto e che avrei tanto voluto condurre. Ma io mi domando perché. Nata in una famiglia solida e anche un po' severa, cresce a pavia e rivela presto un temperamento ribelle che affatica, sopporta regole e imposizioni. A scuola copiavi i compiti. Io facevi rotolini perché rotolavo da una parte e dall'altra, lo facevo diventare come doppio, mettevo un elastichino sottile. Come i manoscritti quelli antichi. Sì, bravissima. E quindi stavo così e scrivevo e giravo. Scrivevo e giravo, scrivevo e giravo, scrivevo e giravo. Da ragazza ama le due ruote e le piace correre. Tanto da collezionare un numero impressionante di multe. Io prendevo le multe ma non avevo i soldi per pagarle. E certo. Una media di una multa a settimana. Ah mamma mia. Arrivava, no? Quindi mi ero messa d'accordo col portiere di non consegnarmi la posta. La testa a posto la mette dopo il diploma, sceglie giurisprudenza e si laurea con il massimo dei voti. Nell'89 l'incontro del destino, quello con Maurizio Costanzo. La porta a Roma, lontana dalla provincia e da un futuro che le andava molto molto stretto. Quando nasce il loro amore, lei ha 28 anni e lui 52. E vorrei capire il corteggiamento come è stato. Un fatto di parola. E anche di qualche fiorellino. Sì, questo, perché lui era bravissimo in questo. che Maurizio fu bravo nell'essere perennemente presente. Ha iniziato a fare televisione superando un'enorme timidezza nei confronti delle telecamere. Ma poi ha creato subito uno stile tutto suo. Autrice, produttrice e conduttrice delle sue trasmissioni, La De Filippi non è solo un volto della tv, ma un marchio e un nome riconosciuto da tutti. Semplicemente, Maria. Non capisco perché insistano a voler farmi guidare macchine diverse che io... Aspetta un po', dovrebbe essere qua dentro. Se per caso cadesse il mondo, io mi scopo un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è un'aula... Eccoci. Oh, che paura mi hai fatto! Sai perché? Perché non ha suonato il telefono. Ho sentito solo... Eccoci. Buongiorno, innanzitutto. Mi prepari un bel caffè che salgo? Ti preparo il caffè. Come lo vuoi? Ah, senza zucchero, con un goccio di latte, lungo. Ma anche fatto alla macchinetta va bene, eh? Va bene, senza zucchero, con un goccio di latte, lungo. Fatto alla macchinetta. Sarà fatto. Ma come sei gentile. Ciao, a fra poco. Devo entrare con la macchina nel portone, l'unica cosa. Se senti un po'... Guarda che stretto il portone. Eh? È stretto il portone. Va bene, a fra poco. Va bene. Ciao. Lei è avvisata, io non vedo un tubo e ora devono andare avanti qua.